Nell'anno delle bombe di Savona, io ero a Savona anche se frequentavo l'Università di Genova, però per quanto mi ricordo io sono stato per i primi tre anni alla casa dello studente, ma in quel caso lì non ero più alla casa dello studente e abitavo in via Milano, dove tra l'altro la mia famiglia ha le origini, nel senso che nel palazzo costruito nel 1930 mia mamma è stata da piccolina, persona di un anno, la prima inquilina, la prima proprietaria inquilina assieme a un'altra donna che tra l'altro è morta quest'anno a cento anni di età. Quindi io sono vissuto nel quartiere di Villa Piana, da ragazzino ho frequentato le scuole elementari, giocavo a pallone ai cosiddetti giardinetti con tutti gli altri ragazzi, e poi ho iniziato le scuole medie invece agli Scolopi, e poi il viceo agli Scolopi, e poi l'Università Ingegneria a Genova. Quindi sono una persona, comunque il quartiere lo conoscevo bene, lo conosco fisicamente ancora adesso, conosco le vecchie persone del quartiere, e non conosco le nuove persone, e io dunque ho abitato nel quartiere fino al 1979-80, poi mi sono trasferito, e comunque la mia famiglia, i miei genitori sono rimasti lì, e io ho ancora la casa di mia madre in Via Milano, dove sono nato all'ospedale San Paolo, ma diciamo dove sono nato e cresciuto, ho ancora la casa lì, che adesso è vuota, e vedrò poi cosa farne. Ci sono tante cose della vita che uno si ricorda molto bene, e tante cose che magari uno non riesce a ricordare, per cui non è facile dire esattamente per me cosa facevo all'epoca, e come mi trovavo all'epoca e tutto quanto. Io so solamente che in casa studiavo per l'Università, ogni tanto andavo a Genova così, frequentavo da alcuni anni la sezione del Partito Comunista Libero Briganti, e da alcuni anni, quindi del quartiere, e per alcuni anni ho fatto fotografie, mi aveva la mia posizione fare foto, per cui facevo fotografie per il Partito Comunista, a livello locale, per l'Unità, per la redazione di Savona, ho ancora una tessera di collaboratore dell'Unità, un tesserino che mi permetteva quindi di poter accedere, come un altro giornalista, a tutti i luoghi possibili, di interesse pubblico. Più o meno era questo quello che in quel periodo facevo. Ecco, intanto è vero che ho fatto, ho un archivio di foto molto ricco, credo che siano forse 500 negativi a 36 foto, del 24-36 a 36 foto, ho anche foto interessanti, per esempio l'anno dopo, quando c'è stato il comizio di Berlinguer, ho fatto delle foto naturalmente della piazza, e poi ho avuto la fortuna di andare in federazione assieme a lui e agli altri, e mentre lui correggeva la bozza dell'articolo che doveva riportare il suo discorso, eravamo solamente io e lui nell'ufficio dell'allora segretario della federazione, e per cui ho fatto delle foto mentre lui correggeva, delle foto mentre beveva un caffè, sono abbastanza particolari. La città allora era interessante, era ancora la città operaia, era ancora la città dove, per esempio nei quartieri ci si conosceva, ma anche a livello cittadino ci si conosceva, era la città che viveva il periodo particolare, a partire dal 1969, delle bombe di Milano, della banca della De Grottura, poi con tutti i sviluppi che ci sono stati, quindi attentati neri, brigate rosse in movimento, in crescita, però era una città che in qualche modo era interessata a tutti questi avvenimenti e in qualche modo cercava di rispondere, cercava di reagire se c'era da reagire, cercava di essere anche propositiva, se era la possibilità di essere propositiva. Mi ricordo appunto che ci sono state delle manifestazioni di reazione di cui ho fatto foto, credo una prima manifestazione a livello savonese, poi una grossa manifestazione a livello regionale, dove c'erano veramente, io non so dire quante persone, ma pensi tranquillamente forse alle 30.000 persone, o da 30-50.000 persone forse, 30.000 quasi sicuramente, penso io, con un corteo incredibile che è partito più o meno dal porto e che poi si è snodato fino a Piazza Safi, Piazza Safi piena di livello simile con le vie adiacenti anche abbastanza piene. Cosa si pensava allora? Non si riusciva a capire che significato potessero avere queste bombe, che ci potesse essere dietro e quindi c'era anche forse un po' di smarrimento anche a capire, mentre erano successe delle cose in grosse realtà, perché la città di Savona, cosa rappresentava la città di Savona in effetti? E sono domande che credo ancora adesso non sono state risolte ed è veramente un peccato che non siano state risolte, che non si possano in qualche modo risolvere. Allora, tra gli altri sentimenti, parte la rabbia, parte così, c'era questo smarrimento. A vedere le cose adesso rimane sempre la domanda perché non si è riusciti a capire cosa sia successo, perché non si è riusciti a capire chi erano i colpevoli, chi c'era dietro, chi non c'era dietro. Anche lì, anche gli obiettivi, che senso aveva? Beh, è chiaro, gli obiettivi si cercava di colpire le scuole, si cercava di colpire le residenze private per mettere paura alla gente, sicuramente. Si cercava di colpire le vie di comunicazione, le strutture, le vie di passaggio dell'energia. Il desiderio di chi c'era comunque era di capire chi erano i colpevoli per quale motivo e che i colpevoli fossero presi e logicamente puniti. Cioè, quello che si pensava, chiaramente, essendo una città cosiddetta rossa, che dietro ci fosse una mano nera. Chiaramente, chiaramente. Anche se non si può provare. Cioè, ancora adesso rimane, rimane in me, come credo che rimanga nella gente che ci pensa, perché poi la gente tende a dimenticare, poi con tutti gli avvenimenti che sono seguiti nell'Italia successiva e quelli che si succedono tuttora adesso, si tende a dimenticarsi questi avvenimenti, a dimenticarsi del passato, a pensare a un presente che forse se imparasse qualcosa dal passato potrebbe essere un presente più aperto, con migliori prospettive verso il futuro. Io non lo so, penso che, appunto, la cosa che sarebbe, forse, che farebbe piacere a tutti è che si potesse arrivare a dare una risposta a queste domande, chi è stato, chi non è stato, perché, per come. Ho l'impressione che forse allora non c'erano, no, che forse anche chi ha indagato, forse non è andato a fondo, forse. Forse è stata, la piccola realtà provinciale è stata sottovalutata, anche questo, e questo è sbagliatissimo, assolutamente. E adesso, per carità, sono, era il 74, siamo nel 2020, però è uno dei tanti altri casi italiani non risolti, oppure, chissà, magari anche risolti, ma questa risoluzione non è stata portata a conoscenza dell'opinione, potrebbe essere anche questo, ecco. C'è nebbia su quel passato, sarebbe interessante sapere i motivi per cui ancora adesso questa nebbia rimane, perché deve rimanere. Io credo che diciamo così, la... i responsabili delle indagini, i responsabili della giustizia, forse non hanno interesse che questa cosa sia a conoscenza, perché diciamo che hanno fatto fiasco. Hanno fatto fiasco, non si sa se volutamente, oppure perché sono mancati forse gli strumenti, perché o perché si è voluto che si facesse fiasco o meno. Quindi, diciamo così, l'ufficialità, giustizia, o in... non ha nessun interesse che di questa cosa se ne parvi. sono cambiate le cose a livello locale, non ci sono più i partiti di una volta, non ci sono più... quindi non c'è più la mentalità che c'era una volta di ricordarsi delle cose. Attualmente si cerca anche di dimenticarci della resistenza oppure di farla sembrare una cosa diversa da quella che è stata. E quindi sono entrate in campo tutta una serie di altre forze a cominciare dalle televisioni berlusconiane in poi che hanno cominciato a creare una mentalità nella gente funzionale ai loro scopi e farvi farvi dimenticare gli avvenimenti storici che comunque hanno un grosso valore e farvi pensare a cose più banali e quindi credo che sulla base di questo ci sia arrivati a dimenticare queste cose per cui a fare in modo che i giovani come te o come i giovani più giovani di te non sappiano niente di questo. Ecco forse sono passati tanti anni anche per noi forse come io stesso non riesco a ricordarmi tanti particolari di allora forse ci sono state tante cose successive che in qualche modo hanno portato a non ritenere una cosa di cui assolutamente ricordarci sempre o di cercare in modo di fare in modo che si ricordi ecco io penso che sia un po' così ma io credo cioè io allora avevo 26 anni allora però adesso ne sono un po' di più tante cose anche io non le ricordo e poi nella vita di ognuno di noi ci sono state tante altre cose che ci spingono magari a a non dare abbastanza importanza a certi fatti che sono successi o a dare maggiore importanza ad altri fatti eventualmente e poi chissà forse anche perché in qualche modo è passato è passato è passato e quindi in qualche modo io ero una persona che viveva viveva le cose come le altre persone quindi con i sentimenti degli altri i problemi degli altri come le idee degli altri per certi versi col fatto che io fotografavo le manifestazioni che fotografavo gli avvenimenti che fotografavo le cose pubbliche o così ero anche una persona che in qualche modo era al di fuori ero dentro e fuori praticamente diciamo così che nel momento in cui ero fuori e che ero fuori come fotografo la mia preoccupazione era cercare di riprendere il più meglio al meglio possibile quello che stava succedendo di documentarlo nella maniera migliore possibile in maniera tale da dare un valore cioè dare un riconoscimento a quello che stava succedendo rendendolo pubblico in qualche modo e quindi cercando di cogliere tutti i momenti importanti i momenti in cui si vedevano dei sentimenti nella gente che si muoveva come si muoveva e di dare una documentazione abbastanza completa di quella realtà per cui per esempio nelle foto che io ho fatto in tutte le manifestazioni cercavo di cogliere i momenti salienti e ancora adesso quando mi mi vado a rivedere le cose del passato ritrovo delle cose interessanti che magari non riuscivo a ricordare di aver fotografato certi particolari certi dettagli e poi la cosa abbastanza interessante è vedere tutte le facce e riconoscere le persone che c'erano vedere anche come si muovevano come non si muovevano che gesti facevano che cercare di capire i loro sentimenti questa è una cosa che mi interessa abbastanza anche adesso fare questo tipo di osservazioni e poi vabbè c'era anche la voglia di documentare fatti che magari non tutti potevano vedere che non tutti potevano documentare io ricordo di aver fatto anche qualche foto dei luoghi dove sono scoperte le bombe ma dal di fuori per cui dovrei andare a ricercare adesso nel mio archivio credo che non abbiano un grande significato per esempio se io ho fotografato la scuola dove è scoppiata la bomba dall'esterno potrebbe essere una foto fatta in qualunque altro momento la cosa invece che credo che sia abbastanza interessante avevo fotografato nel mio quartiere il centro presso la città di mutuo soccorso il 24 aprile dove i due consigli di quartiere di Villa Piana e di Via Mignone avevano messo insieme un ufficio dove si gestiva la sorveglianza delle ronde per cui c'erano sempre delle persone vi presenti in maniera tale che i volontari andassero a dare la disponibilità che venissero stabiliti i turni e poi che i volontari sapessero quando c'erano i turni ricordo che la situazione era organizzata più o meno in questo modo di giorno si presenziava soprattutto le scuole e alcuni altri luoghi pubblici e lo facevano normalmente le donne a coppie e normalmente credo perché si vede anche dalla mia foto dove c'era un luogo pubblico tipo una scuola c'era almeno un poliziotto assieme a un'altra persona che probabilmente poteva essere uno dei nostri del quartiere oppure una persona proprio di dire la polizia in borghese così comunque c'era almeno un poliziotto o qualche altro funzionario e le donne in maniera tale che però ci fosse visivamente il contatto tra questi gruppi che presenziavano il fabbricato che presidiavano il fabbricato mentre invece di notte almeno nel nostro quartiere erano gli uomini che facevano i turni e per quello che mi ricordo io si era sempre in tre credo che ci fosse sempre presente qualche d'uno a turni nell'ufficio in maniera tale che si potesse allora non c'erano i telefoni portativi non c'erano queste cose se si potesse in qualche modo avvisare poi le autorità tenendo presente che comunque ci doveva essere anche un presidio dell'autorità e in quel caso si chiamavano ronde perché si facevano dei giri non si stava mai fermi si facevano dei giri del quartiere io ricordo di aver partecipato a una ronda e adesso mi chiedo come mai a una sola perché non so francamente non so come mai a una sola perché visto che avevo dato la disponibilità avrei potuto darla più spesso ma può anche essere forse che fosse una verso la fine del periodo delle ronde che forse non ce ne fosse più bisogno ed era una ronda notturna non ricordo bene eravamo in tre persone e la cosa interessante che mi ha colpito così è stato scoprire che non conoscevo le due persone che erano assieme a me quindi che non erano dei compagni della mia sezione che non erano probabilmente nemmeno degli attivisti politici o cose del genere ma erano due persone normali del quartiere per me è stata veramente una sorpresa trovarmi con due tra virgolette sconosciuti ecco però è stato un piacere dire non siamo non siamo solo noi non siamo noi da soli ma c'è una grossa partecipazione non ricordo se di quante ore erano i turni se tre o quattro ore mi ricordo che il mio turno forse era dall'una alle quattro o dalle tre alle sei forse dall'una alle quattro o dalle tre alle sei ma questi ricordi vaghi in questo senso naturalmente non è successo niente quella notte non grazie a noi ma in assoluto ecco anche perché chi colpiva cercava di colpire a colpo sicuro io ho girato di notte quindi non c'era quasi nessuno per le strade proprio nelle ore dove i tardoni sono già andati a dormire dove gli operai non sono ancora usciti per andare al lavoro quello che fosse per esempio dall'una alle quattro o dalle sei quindi però è chiaro che il quartiere rispondeva in maniera solidale a queste cose ecco non lo so credo che i cosiddetti attentatori non fossero gente del quartiere di Villapiana credo per quanto si possa pensare ecco è diversa la città perché sono diverse le persone perché è cambiato completamente il quadro economico produttivo è cambiato completamente allora era ancora una città dove le fabbriche avevano un peso dove l'industria aveva un peso dove quindi c'erano tantissime persone che lavoravano insieme che avevano i problemi che che hanno le persone che hanno le persone che lavorano logicamente e quindi c'era anche maggior contatto tra le persone maggiori maggiori rapporti questo periodo è finito poi forse con l'ultima etalsidere credo che sia stato quasi l'ultimo colpo a quella città alla città di allora la città di adesso è completamente diverso non ci sono le fabbriche hanno tutto sommato un centro di aggregazione e poi quindi la gente che poi si ritrovava aggregata nelle fabbriche si trovava magari aggregata nei bar o nelle società di motosoccorso o nei circoli aziendali o nei circoli di partito quindi c'era ancora questo attualmente non ci sono più questi grossi centri di aggregazione è cambiato completamente il modo di vivere non ci sono forse si perde anche il bisogno dei contatti personali si preferisce avere contatti attraverso i media attraverso gli strumenti di questo tipo si arriverà a un giorno per cui noi cinque che adesso siamo qua invece di parlarci direttamente ci parleremo attraverso un telefono probabilmente o sempre di questo tipo questo sicuramente è quello che in qualche modo cambia anche questa città è cambiata questa città perché non ci sono più i partiti che c'erano alla volta non ci sono più le organizzazioni che c'erano alla volta che avevano bene o male degli obiettivi che in bene o male comunque pur essendo avversari si rispettavano che bene o male erano alla ricerca di un bene comune magari attraverso strade diverse ma mentre invece adesso siamo allo sbando completo al personalismo non esistono più questi centri così esistono raggruppamenti di tutto tipo soprattutto accentrati su un personaggio o su una persona che si poi trasportano da livello centrale a livello locale ci ritroviamo adesso che abbiamo degli amministratori che non hanno la capacità per essere degli amministratori non hanno le conoscenze ci ritroviamo con degli amministratori che fanno che nelle loro dichiarazioni sono i più impegnati a fare la lotta contro la lingua italiana e la fincono piuttosto che a fare dei ragionamenti completi a portare delle proposte serie io seguo pur essendo all'estero seguo quotidianamente tutti gli avvinamenti di Savona della mia città quindi tutto sommato credo di conoscerla bene anche se ci vengo 5-6 volte all'anno e ci rimango quando ci vengo il più il più lungo possibile due settimane e mezzo tre settimane però ripeto io quotidianamente cerco attraverso i vari fonti di informazione di avere informazioni complete per quanto si possa avere logicamente corrette per quanto possano essere corrette però attingendo da più fonti si arriva comunque a farsi un'idea ecco sì la città adesso è veramente non lo so non ha più anima anche non ha più anima non c'è più questa io non so quanta gente si riconosce in questa città o quanta gente pensa anche che questa città comunque è fatta anche da lui e quindi anche lui dovrebbe dare un contributo perché sia la città come la vuole lui all'epoca diciamo la piazza del comune era un po' il centro di riunione di tutte le manifestazioni che c'erano che si facevano come la piazza piazza Mamevi ecco erano poi due centri ma forse più piazza del comune perché lì si svolgevano i comizi lì si stava più a lungo piazza Mamevi si arrivava per esempio al primo maggio per deporre la corona e poi si andava via quindi tutto sommato sì piazza del municipio potrebbe essere ancora in qualche modo ecco diciamo che poteva allora poteva essere era il cuore della città in qualche modo anche perché c'è il municipio perché c'era il palazzo del comune e quindi il centro anche amministrativo e anche perché forse allora si stimavano i sindaci che c'erano si riconosceva a loro capacità e buona volontà cosa che negli ultimi tempi forse non è più non è più stato quindi secondo me potrebbe essere ancora questo un po' ancora adesso però adesso è cambiata il palazzo del comune a parte appunto anche dal punto di vista architettonico che ha un certo significato ma anche il palazzo del comune non è più per noi il palazzo del comune come una volta allora ci si entrava liberamente tutto quanto adesso è qualcosa così di distaccato ecco ma d'altra parte gli attuali amministratori sono delle persone assolutamente distaccate dalla gente tengono solamente così in qualche modo ad apparire a sembrare ma poi non non c'è un rapporto vero ecco non ci vuole forse non si vuole nemmeno avere un rapporto vero perché magari se c'è un rapporto vero si è costretti poi anche a pensare a dire ma forse dovrei fare qualcos'altro dovrei fare qualcosa di più il fatto che sia successo questo a Savona è una cosa che non è successa in molte altre parti d'Italia forse in nessuna parte d'Italia c'è stata una successione nel giro di pochi mesi di così tante bombe a meno che sappia io direi di no ci sono state delle cose a livello molto più grande ma non a livello con una sequela di questo tipo e quindi è un fatto particolare la cosa però sicuramente che in qualche modo dimostra l'unicità di Savona dimostra anche cos'era Savona allora è la risposta che c'è stato ecco questa mobilitazione di massa questo le ronde questo cercare di di vedere di collaborare in qualche modo con le forze dell'ordine per proteggere la città per quanto possibile impedire che si ripetessero delle cose direi che è un fatto abbastanza unico credo e quindi è giusto secondo me che venga in qualche modo ricordato che venga in qualche modo valorizzato ecco ecco